Io sono Adora, la sorella gemella del famoso E-Man, e difendo il palazzo di Cristal. Questo è Spiel, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto Per l'onore di Graysky! Io sono She-Ra! Il mio puledro si trasforma in Swiftie, e oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Razz, ecco lui. Insieme ai miei amici, guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Orda! Di Orda! Di Orda!